Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, mercoledì 27 marzo e a brevissimo andiamo a fare una piccola preview ufficiale di eventi e giocatori in arrivo per domani, perché anche sul Blue Lock, grazie a Lorenzo, grazie a Francesco che mi hanno ricordato che c'erano delle informazioni per capire quali saranno i prossimi eventi in arrivo giovedì questo, cioè giovedì domani 28 marzo, e quello successivo e poi andremo a vedere la solita anteprima di Piotv, c'era qualche dubbio perché sì c'erano i nazionali ma non c'erano, non tutte giocavano in partiti ufficiali, amichevoli e invece arriveranno i giocatori nazionali. Prima però una piccolissima introduzione sulla giornata di ieri, io volevo ringraziare tutti coloro, la stragrandissima maggioranza che hanno capito il senso del video, l'importante preambolo iniziale che hanno commentato dopo aver ascoltato quello che ho detto, dopo aver capito il senso generale e globale, con tutto il preambolo che c'era, con tutto il preambolo che c'era e quindi vi ringrazio davvero per la solidarietà dimostrata, davvero grazie, un grazie in particolare a SimoPlay che ha voluto realizzare un video su quello che mi è capitato, mi ha correttamente chiesto se poteva attaccarmi e parlare di me in maniera chiara, ovviamente io ho detto di sì perché ognuno è libero di fare ciò che vuole e soprattutto quando è stato un video di, fra virgolette, di solidarietà nei confronti di quanto avvenuto e poi dopo lui ha espresso anche delle opinioni che non condivido in pieno su Konami eccetera eccetera ma ognuno ci mancherebbe, io non posso che ringraziarlo, ognuno vede le cose a suo modo, io ho fatto dei preamboli leggermente differenti dei suoi, ma non posso che, ripeto, ringraziarlo vivamente del video che ha fatto perché poteva tranquillamente fregarsene, lui si è sentito coinvolto perché tutta la questione, tra virgolette, nuova di Geaters e Imbroioni è iniziato da un suo video in cui ci sono state tantissime polemiche su cui non voglio tornare, mi sono già espresso in passato sulla questione, comunque tenderò per l'ennesima volta a fare sempre meno video sfoghi, video così, avrei da raccontarvi anche ultimissimi commenti, però ho capito che non posso continuare in questo modo, anche forse il video di ieri è stato un video sbagliato, tra virgolette, perché tanto hai una parte di persone che amano colpirti, denigrarti, offenderti, eccetera eccetera e c'è da dare sempre meno opportunità di fare questo, perché ve lo dico, ecco ve lo dico, una mano a mente poi da qui in poi cerco sempre di essere più intrattenitore e meno persona, queste cose fanno male stanotte pure ho ricevuto altri attacchi di altro genere, li ho trovati stamattina che lasciano davvero perplessi e basiti a fronte di come porto avanti il canale però ripeto, magari sbaglio io proprio a pensare di poter intervenire ovunque, di poter rispondere a chiunque e a qualunque cosa scriva che anche sta in quella linea di confine che non è da bannare ma che comunque fa molto male, lo dico chiaramente e comunque ecco, questo sarà l'ultimo video di questo genere da ora in poi ve lo dico, sarà molto più informazione, intrattenimento e molto meno Fabrizio da ora in poi, perché ho capito che bisogna fare così siamo in un luogo pubblico dove potenzialmente tutti possono commentare, possono dire a loro e anzi magari trovano in una persona recettiva e sensibile un bel bersaglio quindi dovrà in poi, vi dico, cambierà un po' il modo di fare video su questo canale però io il 95, 97, non lo so, di voi che ha commentato in maniera neutra, positiva si è posto dei dubbi, ho dei dubbi anch'io li ringrazio e ringrazio per l'ennesima volta Simo Play per il video che ha fatto chiusa parentesi, da ora in poi, ripeto, ci sarà molto meno Fabrizio in questo canale ci sarà molto più i football per farla breve ma già adesso era 90 e 10, da adesso in poi sarà 99 e 1 detto tutto questo ragazzi, portiamo dalla Blue Lock Collaboration Campaign cosa succede? Ripeto, grazie a Lorenzo, grazie a Francesco mi hanno segnalato giustamente che domani arriverà l'evento dei calci di rigore con il Blue Lock Campaign e ci sarà questo tipo di evento il 4 aprile arriverà questo nuovo evento l'ultima cosa della stagione 5 che ancora non è arrivata il Time Tuck Event quindi vi confermo comunque, detto tutto questo che si potranno prendere tutti, 8 i giocatori Blue Lock presenti in quel pool quindi questo è certo, questo è sicuro state tranquilli entro la fine della stagione anzi forse già domani perché vedo Challenge Event Blue Lock per 3 no, quelli li abbiamo già presi due di là il Tour Event il Tour Event quindi domani, domani ci dovrebbe essere il Tour Event e a quel punto dovremmo poter già prendere entro questa settimana tutti tutti i i giocatori una cosa importante mi sono dimenticato di dirvi questa sera comincia l'avventura su PC ricostruisco la squadra quasi da zero ricostruisco quello che è una nuova avventura in campionato con una squadra un po' sui generis mi servono molto i vostri consigli su chi prendere quando usciranno i nuovi pool della settimana eccetera eccetera adesso c'è un pochino più l'interesse per prendere qualche giocatore nuovo anche dai pool non da quelli da 150 quelli no quelli appunto della settimana eccetera eccetera vi aspetto i vostri commenti questa sera si ricostruisce la squadra e si giocano anche due partite ho dovuto anche mettere mano alla telecamera ho dovuto mettere mano a tante cose ma alla fine ci sta ha iniziato a girare la squadra e vedrete stasera vecchie leggende nuovi giocatori un pack preso un pack preso non è la prima volta che prendo un pack ovviamente lo ho preso anche su PlayStation 5 insomma vi aspetto numerosi questa sera ore 20 giocatori della settimana dal solito arrivano dal Giappone dopo la montezione presentiamo 11 giocatori provenienti dalla squadra nazionale di ogni paese e si sono distinti durante la settimana domani i dettagli dei giocatori e vediamo qui che c'è e un giocatore tedesco che però mi sembra lo stesso tra l'altro ha bustato comunque giocatori della nazionale abilità questa è una traduzione automatica comunque dovrebbe essere qualcosa sul tiro insomma domani arrivano i giocatori della settimana come previsto evento blue lock con i calci di rigore quindi facili da portare a termine saranno molto rapidi però dovrebbero essere online se non mi ricordo male i rigori dovevano essere online insomma quindi ci potrebbe anche volere un po' perché se prendi il giro strano a volte capita comunque vedremo tutto domani calci di rigore sicuro probabilmente online mi ricordo che in precedenza erano online i eventi ai calci di rigore io vi ringrazio per l'attenzione ragazzi scusate per l'ennesimo piccolo sfogo iniziale sarà l'ultimo davvero si cambia un po' registro da domani in poi grazie per l'attenzione buona giornata ciao